Musica Musica Immaginate di essere alto un metro e cinquantadue e di aver cominciato come garzone di droghiere finché, studiando legge di notte, siete riuscito a diventare procuratore. Musica E immaginate che a forza di zelo e di frequenza in chiesa siete diventato un uomo importante, quello che raccoglieva cambiali e ipoteche. Musica E che nessuno si burlasse più della vostra statura e degli abiti e degli stivali troppo lucidi. Musica 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 Musica